Si chiama Operazione Diamanti, l'indagine di polizia giudiziaria conclusa dai finanzieri di Fano, che ha permesso di scoprire una truffa milionaria ai danni di numerosi risparmiatori da parte di una società che attraverso il sistema bancario ha promosso e venduto pietre preziose a prezzi notevolmente superiori rispetto al reale valore. L'attività delle fiamme gialle è partita dalle querele presentate dai clienti di Banca Suasa di Pesaro, che lamentavano di essere stati raggirati. Infatti avevano acquistato dei diamanti, tramite la banca di cui erano correntisti, sulla base di investimenti apparentemente vantaggiosi, prospettati e suggeriti in modo ingannevole dall'istituto di credito. Quest'ultimo, che fungeva da intermediario di una società di capitale che commercializza pietre preziose, avrebbe stipulato con la società un accordo illecito, inducendo in errore centinaia di clienti. La società venditrice, dal canto suo, oltre a collocare i diamanti, ne avrebbe falsificato le quotazioni anche a mezzo di annunci ingannevoli pubblicati sulle pagine economiche di un giornale a tiratura nazionale. L'attività d'indagine ha consentito anche di quantificare sia l'importo complessivo corrisposto dalle vittime, pari a circa 2 milioni e mezzo di euro, sia le provisioni incassate dall'istituto di credito che ammontano 300 mila euro. In totale sono state 16 le persone denunciate, oltre al rappresentante legale della società venditrice dei diamanti. Questi dovranno rispondere a seconda dei diversi ruoli e responsabilità dei reati di truffa aggravata, corruzione tra privati e autoriciclaggio. Anche la banca è stata deferita all'autorità giudiziaria perché non avrebbe adottato i modelli organizzativi finalizzati a prevenire la commissione dei reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente. L'istituto di credito che ha incorporato la banca coinvolta nella vicenda ha già provveduto a risarcire il 90% dei correntisti che avevano acquistato i diamanti.